Chiara Ferragni, dopo una breve pausa trascorsa in famiglia al termine della Fashion Week di Milano, ha deciso di volare a Parigi per partecipare alla Parigi Fashion Week. La normalità in casa Ferragniets è durata poco, poiché un nuovo impegno pubblico attende Chiara Ferragni, l'influencer ha condiviso con i suoi seguaci una foto mentre si prendeva cura del suo aspetto, con un trattamento di bellezza, in preparazione per la nuova avventura che l'aspetta. La settimana della moda francese ha ufficialmente preso il via oggi, il 25 settembre, e si protrarrà fino al 3 ottobre. I fan dell'influencer sono ansiosi di scoprire gli outfit che Chiara Ferragni ha scelto per l'evento. Con il suo stile unico, e il suo talento nel campo della moda, è probabile che continuerà a stupire e a ispirare con le sue scelte di abbigliamento durante questa prestigiosa settimana della moda parigina. Non c'è dubbio che Chiara Ferragni sarà al centro dell'attenzione, e che la sua partecipazione alla Parigi Fashion Week sarà seguita, con grande interesse dai suoi numerosi ammiratori in tutto il mondo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!